Ciao ragazzi, eccovi qua! Anche quest'anno siamo giunti a Natale, o meglio la vigilia di Natale, domani sarà Natale, e vi auguriamo di passarlo in maniera serena e felice insieme alle vostre famiglie. Quest'anno purtroppo per motivi logistici non siamo riusciti a passarlo insieme io e mio fratello. Continuate ad iscrivervi al canale, mi raccomando, a coinvolgere sempre più persone per far crescere insieme il canale, mi raccomando, ed ora passo la linea a Michi. Grazie per la linea Marco! Ragazzi siamo qui noi della TuttoTec per augurarvi Buon Natale, buone feste e soprattutto un anno ricco di soddisfazioni e di felicità. Serve un po' più di leggerezza, un po' più di allegria. Speriamo che noi con i nostri video, che a volte sono abbastanza seri, a volte cerchiamo di infilarci dentro qualcosa che, passatemi il termine, mandiamo un po' in bacca e quindi di rallegrarvi un po' magari i pomeriggi barra le serate, le mattine quando guardate il video e di insegnarvi qualcosa che magari non sapete. Sperando che tutto questo vi possa essere utili, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e magari se avete amici, parenti o che cosa, di diffondere il verbo e far iscrivere sempre più persone. Detto questo ragazzi, vi rinnoviamo gli auguri noi di TuttoTec e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ragazzi!